Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Grande spavento per un neonato di 40 giorni rimasto chiuso accidentalmente dentro l'auto dei genitori immediato l'intervento dei vigili del fuoco Pauroso schianto tra due auto a Pesaro, una donna finisce all'ospedale Dal quartiere Poderino di Fano parte la lamentela di un gruppo di anziane che chiede il ripristino della linea che porta all'ospedale Santa Croce Ancora appelli per riaprire il centro Margherita A Fano TV interviene l'Associazione Italiana Malati di Alzheimer Alla fondazione ha intanto presentato il libro scritto dai fratelli Fabiola e Alfredo Pacassoni Cambiamenti in vista nelle parrocchie della diocesi di Fano Ecco i nomi dei parroci che entreranno in servizio a partire dal 1 settembre Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Apriamo con la cronaca Lascia le chiavi all'interno dell'auto Questa a un certo punto si chiude Con un neonato di 40 giorni al suo interno Grande spavento questa mattina alle 9.30 al parcheggio dell'ex caserma Paolini a Fano Dove una donna del posto ha lasciato distrattamente le chiavi nel portabagagli e ha richiuso lo sportello A causa delle nuove tecnologie la centralina ha bloccato le sicure in modo automatico Lasciando il bambino all'interno dell'auto E' scattata così subito la chiamata ai vigili del fuoco Che in pochi minuti hanno raggiunto il parcheggio Hanno rotto il finestrino E liberato il neonato Che è tornato illeso tra le braccia della madre Ancora un incidente Un'auto si ribalta e finisce contro i cassonetti dell'immondizia Pauroso schianto Questa mattina a Pesaro intorno alle 11 Dove due auto, un Alfa Romeo e una Fiat Punto Si sono scontrate frontalmente in Viale Trento All'intersezione con Viale Pola Nell'impatto la Fiat guidata da una donna di 59 anni residente a Pesaro E' finita contro un cassonetto della raccolta differenziata sul lato destro della strada Sul posto i vigili del fuoco La polizia locale è il 118 che ha trasportato la donna all'ospedale Illesa invece la conducente dell'Alfa Romeo Una donna di 40 anni residente nella provincia di Lecce E rimaniamo a Pesaro dove sono in arrivo oltre 40 cartelli contro l'abusivismo in spiaggia Gli avvisi circa 20 in più dell'anno scorso Verranno distribuiti lungo tutto il litorale da Baia Flaminia a Sottomonte L'obiettivo, spiega l'assessore al patrimonio e alla sicurezza Riccardo Pozzi È quello di educare gli acquirenti a non comprare da abusivi Stiamo parlando di attività illegali e di merci contraffatte per le quali non sono state pagate né tasse né IVA E quindi danneggiano chi è in regola Siamo in presenza di un furto all'impresa Ha concluso l'assessore Un danno allo Stato, un crimine alla società Lavori ultimati del ponte in via Lamarca a Pesaro Nel tardo pomeriggio di oggi è stato riaperto anticipatamente alla circolazione Resta chiusa la zona pedonale che verrà riaperta in un secondo momento Francesco Salvago Ponte di via Lamarca a Pesaro Nei giorni scorsi gli ingegneri hanno provveduto ad effettuare le prove di carico Per la verifica della stabilità del manufatto e l'ipermeabilizzazione Nella giornata di oggi si è provveduti all'asfaltatura In questi giorni di chiusura si è provveduti anche all'impianto di illuminazione a LED Tra via Verdi e via Cavallotti Nella giornata di giovedì verrà riaperto anche via Colbe Che ritornerà alla normalità dopo questo periodo in cui è stata penalizzata Alla nostra redazione sono arrivate diverse lamentele Da parte dei residenti che abitano nella zona vicina al ponte Soprattutto per i disagi che hanno causato la chiusura del manufatto in questo periodo Anche 13 minuti da posto 6 ore fino a via Gialdini Quindi lei viene da Fano fino a posto 6 ore Da posto 6 ore Sì Diciamo che questo ha creato un po' di disagio Un po', un bel po' Chiaramente ha creato parecchi disagi Speriamo che quando dovranno fare l'altra parte Insomma si siano organizzati meglio La chiusura ha portato dei disagi anche per la sua attività Anche per il posteggio dei clienti In parte sì chiaramente Perché è una persona che deve venire a fare spese qui Se deve affrontare mezz'ora di fila e disagi Magari ci pensa prima di venire Un'ora di viaggio per arrivare alla Santa Croce di Fano È la lamentela di un gruppo di anziane del quartiere Poderino Un quartiere di Fano Che chiede di ripristinare il vecchio percorso dell'autobus Modificato dall'azienda dopo il lockdown Simona Zonghetti Per arrivare nei posti ci vuole dai tre quarti a un'ora Mi raccontavate che anche per arrivare in ospedale ci vuole tanto tempo Io ieri mattina a tre quarti d'ora Chiedono di ripristinare i vecchi orari E il tragitto che l'autobus faceva prima del lockdown Un gruppo di anziane residenti nel quartiere Poderino a Fano Utilizza sempre i mezzi pubblici per raggiungere i vari luoghi della città Ma ora a causa di una modifica da parte di Adrebus Le signore impiegano molto tempo per arrivare anche al Santa Croce Rischiando di tardare alle visite programmate Sono partita qui alle 11.05-10 Sono arrivata a mezzogiorno a 10 Prima dell'emergenza sanitaria non era così? No, 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 no Erano due Al pincio, su, non erano proprio comodi Al mare, da Bertone Dopo dei tre quarti d'ora che gira il polpulma Voi al mare da Mollet La linea 8 che fa tappa anche in Via L'Italia al Poderino Prevede un lungo giro della città Fano 2, Centinarola, Rosciano, Via 4 Novembre, il Pincio, la Sassonia, la stazione ferroviaria e San Lazzaro Ci si arriva tardi perché bisogna prenderlo un'oretta prima per arrivare più o meno in tempo Ha capito? Ma non è una ragazza da vent'anni, quanto me ne avevo tante, le gambe in fan Insomma ci vuole un po', no? Ci vuole Allora lei capisce che è un po' scomodo Così è scomodo Il tram deve fare quello che faceva prima Giù e su Basta La signora Graziella ci ha raccontato di aver segnalato il problema all'azienda Adrebus Tramite una mail inviata dalla nipote Ma ancora oggi si attende una risposta Mi ha detto che mi chiamavano per telefono Ma io l'altro ieri ho riprovato a richiamare E invece di rispondere mi ha messo la segreteria Aspetta, attende, ma non rispondevano più Ma dopo l'otto hanno detto Non abbiamo messo i tre Io ho detto, ma serva l'acne messo i tre Non ne fanno per un Ancora cronaca Finisce con lo scooter contro il camioncino di una ditta edile Che stava eseguendo lavori E' successo questa mattina nella curva che da Viale Cairoli Conduce in via Fabio Filzi al Lido di Fano Un giovane di 19 anni Si stava recando al lavoro in un hotel del lungomare Quando all'uscita della curva non è riuscito ad evitare un autocarro parcheggiato A causa dell'impatto il ragazzo è finito a terra Frendosi lievemente Sul posto è intervenuto il 118 Che ha trasportato il giovane all'ospedale Santa Croce di Fano E la polizia locale per i rilievi di legge E i vigili urbani di Fano sono intervenuti anche in due incidenti che si sono verificati Nel pomeriggio di oggi Il primo senza feriti all'incrocio tra via Tombari e via dello Scalo Coinvolte nello scontro una Renault e uno scooter della Piaggio Il secondo invece è accaduto tra due auto nell'intersezione tra via Palazzi e via Negusanti Dopo l'ex caserma Paolini Dove il conducente di una delle vetture è passato con il semaforo rosso In questo caso una persona è stata trasportata al pronto soccorso del Santa Croce per accertamenti E anche oggi diamo spazio alle testimonianze delle famiglie Famiglie che chiedono a gran voce di riaprire il centro Alzheimer Margherita Oggi a lanciare un appello alle istituzioni è la responsabile del gruppo fanese dell'Aima L'Aima è l'Associazione Italiana Malati di Alzheimer Basta con le parole, serve concretezza, aprite il centro Margherita al più presto È la richiesta dell'Aima, l'Associazione Italiana Malati di Alzheimer Che ha un gruppo operativo anche nella città di Fano Alcuni componenti erano presenti questa mattina nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano dove è stato presentato il libro dei fratelli Pacassoni dedicato a questa terribile malattia All'incontro era presente anche l'assessore alle pari opportunità Sara Cucchiarini che ha sostituito il collega Dimitri Tinti La Cucchiarini ha assicurato che il comune sta sollecitando la regione per far riaprire la struttura ancora chiusa a causa dell'emergenza Covid-19 A riportare la sua testimonianza oggi è Maria Arguto, residente a Terre Roveresche e responsabile dell'Aima di Fano Suo marito frequentava il centro da un anno e mezzo Sono anch'io in pieno in questa bufera perché io ho mio marito di 65 anni che ha una malattia molto grave che è i corpi di Levi che è una demenza di un'importanza molto rilevante quindi anch'io insieme a loro ho risentito molto in questo momento dell'assenza delle istituzioni dell'assenza delle cooperative di chiunque lavorava in questo settore Siamo stati abbandonati da tutti, ha proseguito Maria Nessuno ci presta attenzione e i fatti lo dimostrano La società ci ha messi da parte Non abbiamo avuto più nessun tipo di assistenza quindi siamo stati lasciati a noi stessi e alle capacità che ognuno di noi poteva avere Fisicamente e mentalmente non riusciamo da soli la famiglia non riesce da sola perché ci vuole un certo tipo di linguaggio con loro ci vuole un certo tipo di modo di potersi porre che spesso non abbiamo gli strumenti per poterlo fare Maria ha poi lanciato un appello ai servizi sociali del comune, alla regione e alla cooperativa che gestisce il centro Non dimenticatevi degli ultimi perché sono tutte persone che hanno pagato le tasse hanno diritto ad essere curati e ad avere un servizio nella decenza dell'essere umano è vero, questa disgrazia è capitata a noi ma è una malattia di forte aumento io non lo auguro a nessuno Le persone affette da questa malattia ci spiega non possono essere gestite e curate in ospedale o in una RSA serve una struttura specializzata e anzi a proseguito sarebbe necessario prevedere un servizio anche nelle ore notturne perché il Margherita è un centro diurno Io ho visto che lì lui trova il suo mondo perché lui trova tutti quelli come lui che gli danno squadra fanno squadra e quindi si sentono forti fra di loro e poi un personale fortemente specializzato capace di saper con dolcezza con grazia con un amore verso la cura della persona che è importantissimo e il centro è fondamentale secondo noi E come avete sentito di Alzheimer separato anche questa mattina alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano dove è stato presentato il libro scritto dai fratelli Fabiola e Alfredo Pacassoni La creatività salva la persona ne sono convinti Alfredo e Fabiola Pacassoni che questa mattina hanno presentato alla stampa il libro intitolato Cos'è? Dove? Perché evolve? Come cercare di dire no all'Alzheimer? L'opera ha l'obiettivo di divulgare la conoscenza della malattia spiegando l'importanza di condurre una vita da esploratori, artisti e atleti presupposti sui quali è necessario lavorare fin da piccoli con il supporto della famiglia, della scuola e del territorio Il lavoro a quattro mani è stato realizzato dai fratelli che nella vita, sia privata che professionale hanno sempre cercato di dare un apporto concreto al benessere e alla cura delle persone L'Alzheimer è una delle forme più diffuse di questa temuta e terribile malattia che se adesso ha ceduto il passo un po' al Covid è comunque classificata come una pandemia mondiale ci sono delle stime altissime per i prossimi anni addirittura nel 2050 ci sarà una vera e propria emergenza e tant'è che sia le associazioni a livello mondiale che europeo si stanno muovendo per creare dei protocolli di cura che possano prevedere quelle che sono, diciamo così le vere modalità di presa in carico della persona e la persona, l'individuo dovrebbe essere al centro dell'attenzione della comunità e delle istituzioni ma a volte hanno detto non è così fra 30 anni si stima che due persone su tre siano affette da una forma di demenza è quindi importante ora far conoscere a tutti non solo di che cosa si tratta ma anche quali sono gli strumenti adatti e i comportamenti che ognuno di noi dovrebbe tenere nel corso della vita dando spazio innanzitutto alla creatività La creatività ci può salvare perché ci apre nuove strade ci apre nuove possibilità ci apre nuove progettualità e quindi è importante che essere creativi non diventi come dire esclusiva solo nel momento del bisogno perché poi in quel momento è difficile attivare un processo educativo e di sviluppo che dovrebbe iniziare diciamo così dalla prima infanzia L'esperto di creatività Alfredo Pacassoni già ideatore del progetto Fano Città delle Bambine e dei Bambini ha annunciato di voler distribuire il più possibile questo libro nei clebanziali nelle scuole ma anche negli esercizi pubblici come i bar della città Fondamentale è stato anche il contributo di Idio Stampa dell'Auser di Fano dell'Aima Associazione Italiana Malattie di Alzheimer e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano Il libro consultabile online potrà essere ritirato gratuitamente nelle loro sedi Abbiamo costruito il centro Alzheimer che è uno dei migliori che c'è in Italia e l'abbiamo messo a disposizione della collettività gratuitamente quindi siamo sicuramente sensibili e anche l'iniziativa che è stata presentata oggi alla quale abbiamo dato con il nostro contributo economico per contribuire alla stampa è un'iniziativa che doveva essere presentata pandemia consentendo a fine febbraio nella nostra sala di rappresentanza chiaramente è stata annullata questa presentazione abbiamo messo a disposizione i nostri spazi per consentire questa conferenza stampa e quindi la conoscenza da parte del pubblico di questa pubblicazione che è stata curata dai fratelli Pacassoni L'azienda ospedaliera Marche Nord attiva il servizio dialisi per i pazienti dializzati che vengono nella provincia per trascorrere le vacanze il progetto assume un valore non solo etico verso una popolazione di pazienti che non possono sottrarsi alle cure dialitiche periodiche nei loro ambiti di residenza ma anche economico per il sostegno dell'intero territorio quest'anno spiega Marina Di Luca direttore del reparto di nefrologia e dialisi abbiamo voluto garantire il servizio nonostante le difficoltà legate all'emergenza Covid a partire da questa settimana verrà organizzato un terzo turno con il personale medico infermieristico in servizio dopo l'orario di lavoro nuove nomine per i sacerdoti della diocesi di Fano Fossombrone Caglipergola ecco i nomi dei parroci che entreranno in servizio a partire dal prossimo primo settembre Filippo Pucci Cambiamenti in corso a partire dal prossimo primo settembre da parte del consiglio episcopale per la diocesi di Fano Fossombrone Caglipergola sulla nomina di alcuni parroci e sulla presenza dei sacerdoti su tutto il territorio diocesano tra i cambiamenti viene nominato parroco di San Cesario a Fano Don Ivan Bellomari a Fossombrone Don Steven Carboni viene nominato parroco di Santa Maria Ausiliatrice e San Martino e sarà anche moderatore della comunità pastorale Don Gabriele Micci invece viene nominato vicario parrocchiale di Serra Santabondio e Frontone Don Diego Fascinetti sarà amministratore di San Severo a Smirra e di San Bartolomeo a Drogo viene nominato parroco della concattedrale di Cagli della parrocchia di Secchiano e di Acquaviva e sarà moderatore della comunità pastorale cagliese Don Filippo Fratelloni viene nominato parroco delle parrocchie di San Francesco e Sant'Andrea in concattedrale a Pergola amministratore di Tarugo viene nominato anche parroco di Frontone e di Serra Santabondio e anche lui sarà moderatore della comunità Don Mirco Ambrosini parroco di Santa Maria Orciano viene nominato parroco di San Maurizio a San Bartolo e della parrocchia della Santissima Risurrezione di Barchi e sarà moderatore delle parrocchie della comunità pastorale di Terre Roveresche Don Michele Giardini viene nominato parroco della parrocchia dei Santi Pietro e Paterniano a Mondavio e sarà moderatore della comunità pastorale delle parrocchie di Sant'Andrea di Suasa e San Michele al Fiume Don Luciano Gattei rimane parroco della parrocchia di Santa Maria Assunta di Sant'Andrea di Suasa e viene nominato anche parroco della parrocchia Regina della Pace e di San Michele al Fiume a Sant'Ippolito Don Giosep Binu viene nominato parroco e viene anche incaricato come collaboratore pastorale di Fratterosa e Torre San Marco Don Pasquale Caponio sarà collaboratore pastorale della comunità di Mondavio mentre Don Fidel viene nominato collaboratore parrocchiale a Fenile di Fano dal primo settembre infine Don Pier Giorgio Don Giuseppe Pierini Don Giancarlo Carboni e Don Nazareno Bartolucci termineranno il loro mandato per raggiunti limiti di età ma resteranno collaboratori pastorali delle proprie comunità e adesso andiamo a Senigallia alla Pinacoteca di Ocesano dove sono conservate le opere pittoriche e preziose sculture che raffigurano la Madonna del Rosario e proprio a questa iconografia mariana verrà dedicato il viaggio nella bellezza in programma domani giovedì 16 luglio nel museo che si affaccia sulla piazza del Duomo infatti nel giovedì dei mesi di luglio e agosto sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite due per serata per immergersi nelle bellezze della Pinacoteca tra i capolavori vi è anche questa pala del grande Federico Barocci conservata nella Sala del Trono e dedicata alla Madonna che consegna il Rosario a San Domenico e adesso ci spostiamo invece a San Michele al Fiume nel comune di Mondavio dove nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco hanno salvato un gatto che era finito in un pozzo di quasi 5 metri di profondità a dare l'allarme due ragazze del posto che durante una passeggiata hanno sentito i lamenti disperati dell'animale in questa fotografia vedete i pompieri di Fano insieme alle giovani e alla proprietaria del gatto l'animale mancava da casa ormai da alcuni giorni al termine del recupero è scattato un grande applauso e un ringraziamento a tutta la squadra e con questo ci fermiamo qui grazie per aver seguito il nostro telegiornale Occhio alla Notizia noi ci vediamo domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa Occhio ai giornali arrivederci grazie a tutti